Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video sul canale di Max Camera Official Grazie per aver attivato questo video e che lo state guardando Oggi è una cosa molto che è un po' divertente diciamo Perché in tutti questo tempo io e Fortes vi abbiamo fatto uno scherzetto Uno scherzetto che può essere piccolo però può fare vuole spaventare Perché sembrava che eravamo veramente in pericolo Ragazzi vi spiego tutta la storia bene per bene per bene Allora lo dico 3, 2, 1 L'impostore è mio fratello gemello È buono e si chiama Avi Ragazzi sì è la verità L'impostore è mio fratello gemello che si chiama Avi Non ve lo faccio vedere perché lui È come l'impostore deve essere preciso nelle cose Non ve lo faccio vedere perché in questo momento sta andando a prendere delle cose Per farsi vedere tipo una tuta non so cosa mi ha detto Tipo che vuole essere ancora nei panni dell'impostore no? Quindi sta andando a comprare tutto quanto e poi viene Comunque quando si tratta di Angelo Già l'ha detto pure mio cugino Angelo si chiama Angelo Ma questo non vuol dire che è Dark Angelo E Angelo che è mio cugino Fortes È Dark Angelo Vuole dire che c'è Dark Angelo che si chiama Angelo Ma non è lui Capito? Che senso di parole strane Gioco di parole strane Lui Dark Angelo si chiama Angelo Ma non è Fortes che si chiama pure Angelo È suo fratello gemello pure nel nome Penso Poi non lo so Poi ve lo dirà nel suo canale Secondo me è suo fratello perché gli somiglia un po' Sì Ragazzi Esatto L'impostore Che adesso lo possiamo chiamare tranquillamente Avi Che lui si chiama Avi come Boh non lo so Questo nome è strano lo so Avi Ed è mio fratello gemello E adesso non ve lo posso fare vedere Però ve lo farò vedere Quando si tratta di Ninja e Impostore Max Cattivo Max.es e tutti gli altri Oluks Quelli li abbiamo inventati noi E abbiamo fatto finta di essere loro Ma in realtà l'impostore Ed Dark Angelo sono reali Sono due persone assolutamente reali Che sono i nostri fratelli gemelli Per questo ci somigliano Quindi avete capito ragazzi E vi abbiamo fatto questo scherzetto Lo scherzetto del 2022 Che è molto scherzetto scherzetto Ecco ragazzi perché ho interrotto la serie di Oluks Perché non abbiamo fatto poi più video Io e loro Perché pure loro si Vincevano Loro Max.es e Ninja Imposto al Max Cattivo Avete capito? Pure loro si vincevano qualcuno Si vincevano Quindi ragazzi Boh questa è la verità Quindi mi aiutavano in pratica Pure Fortes Angelo Avi Che adesso non chiamiamo il primo impostore Perché Così Ragazzi Da me Avi Angelo E Fortes E Like Che adesso deve venire È tutto Ciao Ciao